Buonasera ai nostri amici lettori e benvenuti al nuovo appuntamento di The Wine Taste riservato ai nostri lettori. Nell'evento mensile di ottobre abbiamo come ospite una cantina decisamente importante, una di quelle cantine che hanno fatto la storia e anche il nome dell'Amarone e dei vini della Valpolicella non solo in Italia ma anche al di fuori dei confini del nostro paese. Questa sera parliamo appunto di Speri, questa importante famiglia che si dedica da tanti anni, da oltre un secolo, alla produzione di Amarone con noi, insieme a noi questa sera, Luca Speri che ci aiuterà a comprendere meglio le qualità, le caratteristiche non solo dei vini della Valpolicella ma anche e soprattutto della gloria di questa zona che è appunto l'Amarone. Oltre a questo avrà anche il compito questa sera di guidare i nostri amici presenti a questo evento alla conoscenza dei suoi vini. Io do il benvenuto a Luca Speri e lo ringrazio innanzitutto per essere qui con noi e per l'opportunità che ci offre di degustare da vicino i vini della Valpolicella e i vini di Speri. Inizierei a parlare proprio della zona della Valpolicella prima di entrare nello specifico in quello che riguarda invece la famiglia Speri. Certo, buonasera a tutti intanto e grazie di questo invito. La Valpolicella è una zona, si parla di Verona, Veneto, nord di Verona centro, è una zona che sta tra Verona e il Lago di Garda quindi una zona che ha fatto la sua fortuna grazie a questo microclima particolare dato appunto da questo bacino che è il Lago di Garda che mitiga molto gli inverni e rende gli estati non troppo affose. Quindi un clima che al nord è molto molto particolare, molto unico diciamo così. La Valpolicella è una zona storica per la produzione di vini, storico è il Valpolicella, storico si parla del tempo dei Romani, addirittura il Re Ciotto che è il nostro vino dolce, un vino che ultimamente purtroppo tante aziende stanno un po' lasciando da parte ma che ha fatto la grandezza di questa zona e ha creato l'Amarone che come diceva giustamente lei prima è la nostra gloria. Perché se mi permette l'Amarone nasce dal Re Ciotto, come dite voi è un Re Ciotto scappato. Perfetto, infatti mi piace sentire che qualcuno davvero conosce l'origine di questo grande vino tanti non la sanno, tanti non la conoscono, tanti addirittura non sanno che l'Amarone venga dalla Valpolicella quindi io sono qui come tante volte provo a fare, dire che questo grande vino viene da una zona che ha altro da dare tanto altro, non solo l'Amarone che sicuramente è obiettivamente il vino più importante, è la bandiera però abbiamo tanto altro da dare e qui infatti vorrei proprio dimostrare questo Senza ombra di dubbio, anche perché abbiamo al mio fianco ma questa sera con noi uno dei massimi rappresentanti di questo grande vino è vero, parlare della Valpolicella si tende quasi sempre a parlare esclusivamente dell'Amarone e del Re Ciotto però in Valpolicella non c'è solo l'Amarone e il Re Ciotto esatto, anzi la Valpolicella è nata su quello che è un vino diciamo più normale, tra virgolette un vino più semplice da consumare, un vino che era allora il vino da tutti i giorni e tuttora lo è, tuttora lo può essere il Valpolicella classico, noi lo chiamiamo classico, il Valpolicella doc perché c'è da dire che la Valpolicella è divisa sostanzialmente in due parti la zona classica e la zona allargata la zona classica è quella storica, quella in cui sempre si è fatto il Valpolicella e il Re Ciotto come doc mentre la zona diciamo allargata è arrivata un po' più tardi, negli anni 60-70 è stata allargata la zona per chi ci segue anche, dicevamo appunto che siamo a Verona, in realtà la Valpolicella dista da Verona veramente pochi chilometri allora queste distinzioni, Valpolicella classico e come l'ha definita Valpolicella allargata anche per far capire a chi ci segue com'è la collocazione geografica di queste due zone assolutamente, quindi la zona classica è come dicevo prima la zona che sta a metà strada tra Verona, centro, la zona storica di Verona e il Lago di Garda mentre la zona allargata si trova ad est diciamo di Verona e confine e si intreccia con la zona del Soave, del Soave doc altro grandissimo vino della nostra zona, bianco quindi c'è da dire che abbiamo una bella fortuna dalle nostre parti bianco e rosso e sempre di alti livelli insomma dove si arriva a Verona si beve bene speriamo di sì, dai ce la mettiamo tutta dicevo con noi Luca Speri rappresentante di una delle grandi famiglie della Valpolicella parliamo appunto di Speri viticoltori quando nasce e soprattutto come lavorate voi il vino e dove si trovano i vostri vigneti e cosa fate espressamente in cantina per creare queste magie che poi vengono commercializzate con le vostre etichette grazie per le magie la nostra azienda è radicata in Valpolicella da tanto tempo io rappresento la quinta generazione non sono solo io chiaramente e per fortuna in questo momento attualmente in azienda siamo io, mia sorella, mio padre e i miei tre cugini ci sono ancora due zii che dicono di essere in pensione ma chiaramente lavorano molto più di noi e quindi siamo arrivati alla quinta generazione il primo documento che abbiamo della nostra azienda è del 1870 da una fattura dove si vendeva vino rosso genericamente vino rosso a Milano ma c'è da dire ancora più importante noi ci chiamiamo Speri viticoltori siamo orgogliosi di essere viticoltori e abbiamo appunto 50 ettari di vigneto circa in questo momento in Valpolicella classica quindi prima abbiamo dato la distinzione tra classica e allargata noi i nostri vigneti li abbiamo solo in zona classica e appunto da questi vigneti raccogliamo la nostra uva che serve per fare il nostro vino è fondamentale non compriamo un chilo d'uva non compriamo un litro di vino facciamo la nostra produzione per il nostro vino che a mio parere è il miglior modo per provare a fare qualità e per anche, e di questi periodi non è male, anche controllare i prezzi la nostra famiglia, che poi è una cantina, che poi è un'azienda è fatta da noi quindi c'è un cugino, mio cugino Alberto che è l'enologo Pietro che è l'agronomo io che aiuto in cantina un altro mio cugino Paolo che aiuta in cantina è in ufficio mia sorella che si occupa di tutto quello che noi uomini non vogliamo fare infatti è una santa donna mio papà che è ancora quello della quarta generazione che diciamo sta sopra esatto, controlla un po' tutto gestisce gli animi giovani come il mio che vogliono fare anche troppo quindi diciamo che è un'azienda che è una famiglia e la Valpolicella l'ha vista nascere, crescere, evolversi e arrivare a questo punto importante da dire e ci tengo perché io sono giovane diciamo e sono arrivato qui in questo mercato in questo lavoro dove l'Amarone, il Valpolicella e il vino in generale è già qualcosa di importante di alto locato diciamo mio papà, mio zio, mio nonno mi hanno sempre detto ricordati che fino a 15 anni fa andavamo con le damigiane in Svizzera è una cosa importante da sapere per avere le basi per fare il massimo sempre non per dire che chi arriva adesso sul mercato faccia brutte cose, anzi perché la qualità c'è e sono contento che ci sia e più ce ne sono meglio è che fanno qualità però affrontare un lavoro con la convinzione di sapere da dove si viene dalla terra che si ha dal lavoro di quella terra è proprio passione sicuramente lei prima parlava delle uve della Valpolicella c'è a volte un po' di confusione in questo e va sottolineato che l'Amarone e i vini della Valpolicella sono creati con uve autoctone diciamo la maggioranza degli Amaroni si crea con le varietà autoctone poi il disciplinare come magari avrà modo di raccontarci prevede anche altre varietà parliamo però delle varietà che sono presenti nei vostri vigneti sì, allora le uve, no, le nostre uve le uve di Verona, della Valpolicella sono sostanzialmente tre, se vogliamo dirla a grandi linee Corvina, Rondinella e Molinara poi c'è la Corvina che ha diciamo una deviazione verso il Corvinone che comunque parte da uno stesso clone con delle piccole differenze poi ci sono altre uve autoctone come la Loseletta, la Negrara, Bigoloneusa uve che ormai sono cadute in disuso però che si trovano ancora in alcuni vigneti come qualche nostro vigneto di Sant'Urbano è un vigneto che ha delle vite che hanno 50-60 anni e lì si trova ancora qualche vite che anche mio padre non sa riconoscere perché ormai non ci sono più in commercio le barbatelle di queste uve però comunque sono nostre, autoctone Corvina, Rondinella e Molinara la Santa Triade della Valpolicella che tra l'altro una grandissima fortuna e qualsiasi economista farebbe la firma per fare 5 vini diversi con 3 uve poi per carità abbiamo delle tecniche di produzione che sono molto complesse in qualche caso come nell'Amarone e nel Recciotto però comunque grazie a queste 3 uve riusciamo a fare 5 vini dal vino base, quello più semplice di tutti i giorni al vino impegnativo come può essere l'Amarone addirittura quello dolce che è il Recciotto quindi una grande fortuna una tecnica che si è sviluppata nella nostra zona grazie appunto alla ricerca alla continua ricerca il bisogno di avere qualcosa e appunto noi come diceva giustamente lei siamo tra i tradizionalisti quindi cerchiamo di usare solo queste nostre uve d'altra parte chi mai ha sentito queste uve fuori da Verona nessuno abbiamo una fortuna nelle mani abbiamo avuto questi vini che stanno diventando sempre più importanti sempre più grandi e nascono solo nella nostra zona perché queste uve abbiamo la fortuna che crescono e rendono bene solo nella Valpolicella quando l'Amarone è diventato famoso qualcuno ha provato a piantarle in tutte le parti del mondo dalla California al Sudafrica ma i risultati sono sempre stati molto molto bassi questo è molto interessante quello che dice perché mi permetterei di aggiungere che il vino non si fa solamente con l'uva ma ci sono anche altri fattori non da ultimo il lavoro dell'uomo che trasforma e utilizza questi elementi per ottenere un risultato ma ricordiamo che anche il territorio svolge una funzione di estrema importanza assolutamente sì infatti l'Amarone parliamo di quello che è un po' quello che riassume questo discorso perché l'Amarone se si pensa in un momento un po' così un po' veloce potrebbe sembrare un vino di tecnica perché solo di tecnica perché è fatto appunto con l'appassimento delle uve ma si sa l'appassimento bene o male naturalmente o magari indotto con qualche sistema di deumidificazione e di ventilazione si può fare un po' dappertutto l'importante è che noi abbiamo queste uve Corvina, Rondinella e Molinara e crescono solo nella nostra zona grazie al microclima che abbiamo quello che dicevo prima e quindi è proprio la fusione della tecnica quindi dell'ingegno umano dell'abilità dell'uomo e della terra sulla quale stiamo sulla terra che ci siamo trovati quindi direi che è un connubio perfetto prima parlava delle uve tipiche che compongono i vini della Valpolicella e pertanto anche l'Amarone è inevitabile non citare l'Amarone ogni volta e si cita Valpolicella e magari è anche interessante capire un po' le differenze fra queste tre varietà poi ha citato anche il Corvinore che è presente anche nel vostro Amarone magari far comprendere a chi ci sta seguendo quali sono le differenze ovviamente non dal punto di vista agronomico ma diciamo il contributo enologico di queste varietà nei vini della Valpolicella certo, allora innanzitutto c'è da dire che la Corvina fa la parte più importante in tutti i nostri vini si passa da un 60% a un 70% in genere ed è l'uva che dà sostanzialmente più corpo più struttura che fa un po' quella che è l'impalcatura del vino quella dà la struttura essenziale al vino ed ha insieme alla struttura anche un buon apporto di colore la rondinella allo stesso tempo dà quel gusto molto particolare molto tipico che è quello di ciliegia ai nostri vini la ciliegia che si può trovare dalla ciliegia fresca e croccante nel Valpolicella fino a quella matura e magari sotto spirito dell'amarone fino alla marmellata di ciliegia del Reciotto ed è bellissimo vedere come questa ciliegia si evolva in tutti i vari vini mentre poi abbiamo la Molinara che è un'uva che tanti purtroppo stanno un po' scartando e a me un po' piange il cuore perché è un'uva che effettivamente a livello enologico se mi arriva un enologo qualsiasi si dice ma questa qua lasciamola un po' da parte perché il risultato che si ha pigiando quest'uva è praticamente un rosè quindi molto scarico di colore corpo ce n'è poco ma un'acidità e un minerale che dà una personalità e secondo me un'anima una riconoscibilità al vino incredibile ovviamente in tutti i vini si usa al massimo un 10% ma noi siamo attorno al 5% poi chiaramente dipende anche dall'annata ogni annata ha la sua storia però io direi che la Molinara nei nostri vini è fondamentale e parlando invece dell'altra varietà che sempre più si trova nei vini della Valpolicelle che ha citato appunto il Corvinone quindi l'utilizzo e diciamo la caratteristica la qualità enologica del Corvinone nell'ambito del vino della Valpolicelle sì il Corvinone appunto deriva dalla Corvina l'uva a livello fisico è diciamo un po' più grande ha acini un po' più grandi quindi più succosi sicuramente e molto portato all'appassimento l'appassimento lo regge molto bene i grappoli sono molto spargoli quindi per avere un appassimento medio-lungo che va dai 90 ai 120 giorni è un'uva particolarmente adatta a livello poi organolettico riprende comunque la ciliegia questo gusto che abbiamo detto tipico dei nostri vini e la differenza con la Corvina è questa piccola vena questo retrogusto verde diciamo erbaceo leggermente erbaceo che appunto questo Corvinone ha c'è da dire poi che il Corvinone come corpo e struttura siamo quasi al pari della Corvina forse un attimino in più se devo essere sincero e il Corvinone tra l'altro molto importante da dire è particolarmente adatto alla coltivazione in collina quindi meglio sulle colline oltre i 300 metri che in pianura anche perché appunto parlando della Valpolicella è anche interessante dire un po' come si sviluppa questo territorio Verona è sostanzialmente pianeggiante ma poi appena si esce esatto appena si esce c'è uno spettacolo diciamo noi abbiamo queste colline che poi è da dove vengono i nostri crew migliori i crew storici della Valpolicella di Speri ma anche di tanti altri produttori altrettanto validi spesso e volentieri arrivano dalle colline quindi si passa da una zona pianeggiante dove in genere soprattutto noi ricaviamo le uve per fare diciamo i vini più giovani più freschi immediati Valpolicella e Valpolicella la base per fare il ripasso mentre poi dalla zona pede collinare quindi come si arriva attorno ai 150 metri sul livello del mare fino ai 350 diciamo quindi zona collinare la zona dove meglio le nostre uve rendono dove danno la loro espressione migliore e quindi uve per amarone e reciotto è importante la collina perché è fondamentale perché perché c'è aria c'è una ventilazione molto importante le nostre uve che devono andare in appassimento devono essere perfettamente sane e asciutte non devono avere la minima umidità all'interno e ovviamente con questa ventilazione anche le viti hanno una possibilità di vita molto maggiore quindi si arriva ad avere medie di età anche oltre 25-30 anni e si sa che per avere vini equilibrati eleganti è la base assolutamente in Valpolicella come dire sembrerebbe che l'enologia è quasi un divertimento visto che le tecniche che utilizzate sono tante ha citato il ripasso poco fa abbiamo già parlato dell'appassimento che finisce appunto nell'amarone ma anche nel reciotto e poi come dire la vinificazione in rosso classica che riguarda poi tutti quanti parliamo allora dei vini di come nascono i vini facendo anche capire i vostri vini a questo punto perché sono i 5 vini che degusteremo questa sera Speri produce solo vini rossi come ci è stato detto si trova nella zona della Valpolicella e che prevede solo vini rossi noi degusteremo questa sera tutti i 5 vini rossi prodotti da Speri in un viaggio ideale che ci consentirà di comprendere la produzione di Speri ma anche della Valpolicella partendo da un Valpolicella classico fino a salire verso il reciotto cominciamo allora a parlare proprio di questi 5 vini che questa sera i nostri amici avranno il piacere di assaggiare il primo vino base è appunto Valpolicella classico spiegava appunto prima le differenze fra le zone ed è il vino base con il quale anche la produzione di Speri si annuncia tra virgolette ai propri clienti come nasce questo vino? beh quindi questo è un vino il classico vino della nostra zona è il vino che è un po' quello da tutti i giorni quello che che ha mio padre sulla tavola ogni santo giorno quindi è un vino è un vino che quindi viene fatto con queste uve sempre Corvina, Rondinella, Molinara e qui la Molinara trova più spazio diciamo quindi su un vino che non deve per forza avere corpo e strutture esagerate quest'uva riesce a dare il meglio quindi si ha un vino con un colore rubino ma non troppo carico anzi il vero Valpolicella quello tradizionale quello classico ha un colore non troppo intenso bello ma non troppo intenso e il gusto sicuramente c'è questa acidità questa acidità che fa parte delle nostre uve perché è natura per fortuna queste uve hanno una grande acidità che nel Valpolicella danno freschezza bevibilità croccantezza nel prodotto e nell'amarone danno capacità di invecchiamento danno eleganza e quindi si parte da questa base è un vino che noi pigiamo chiaramente in settembre ottobre nel mese di settembre ottobre e una vinificazione veloce quindi si parla di dieci giorni di fermentazione con dei rimontaggi e un affinamento un lieve affinamento quindi pochi mesi fino ad arrivare all'anno nuovo quindi fino ad arrivare a febbraio in cemento e vasche di acciaio vogliamo tenerlo così per dare tutta la freschezza possibile in questo vino non cerchiamo invecchiamenti non cerchiamo di ammorbidirlo con legni cerchiamo proprio la vera natura questo sprint del vino base che deve essere solo ed esclusivamente piacevole da bere certo anche perché con la premessa appunto che stava dicendo credo che queste scelte enologiche giustifichino appunto quello che diceva cioè di esaltare queste qualità soprattutto della molinara mi permetto di ricordare che questo Valpolicelle è prodotto appunto con le tre uve che citavamo Corvina Rondinella e Molinara esatto esattamente procediamo con il secondo vino che degusteremo questa sera e qui c'è come dire qualcosa di particolare da far capire ai nostri amici una Valpolicella sempre in zona classica superiore ma prodotto con la tecnica del ripasso questa sera per noi nell'annata 2007 come nasce questo vino ma soprattutto cerchiamo di far capire che cos'è il ripasso allora il ripasso prima di tutto ha detto bene è un Valpolicella superiore nel nostro caso classico superiore perché viene dalla zona classica quindi è un prodotto che è alla base del vino che abbiamo descritto prima quindi del Valpolicella classico del Valpolicella quello d'entrata diciamo così la tecnica è una tecnica che ha veramente dell'ingegnoso una tecnica che viene dal passato ancora prima di quando c'era l'amarone una tecnica che si faceva quando c'era il recioto questa tecnica in cosa consiste consiste in prendere questo Valpolicella base quello fresco che si fa a settembre ottobre e metterlo in contatto con le vinacce dell'amarone che si hanno attorno a febbraio marzo alla fine della vinificazione dell'amarone mettendo in contatto queste vinacce con il vino Valpolicella si ha una piccola fermentazione molto lenta molto piccola perché c'è da dire da precisare che quando queste vinacce dell'amarone vengono separate hanno ancora dei lieviti che stanno lavorando all'interno e un piccolo residuo zuccherino quindi comunque questa fermentazione continua molto lentamente e questo Valpolicella grazie appunto a questa piccola fermentazione e a queste vinacce dell'amarone prende un po' di coloro un po' di struttura i tannini quella morbidezza tipica dell'amarone e quindi si ha un prodotto sicuramente superiore rispetto a un Valpolicella e con una tecnica tutta nostra tutta nostra perché l'amarone ce l'abbiamo noi per fortuna posso dire una cosa e ci tengo il ripasso è una tecnica che adesso è un vino che adesso è molto sulla bocca della gente è rinomato è riconosciuto è considerato molto bene per fortuna e secondo me giustamente ma i consumatori devono sapere che arriva da una tecnica da un modo per non buttare via niente e da un modo per non buttare via quella cosa preziosa che si aveva febbraio marzo che erano queste vinacce che erano ancora intrise di tanta cosa tanta tanta bella roba che era un peccato buttare via quindi originariamente era appunto non buttare via niente non sprecare non aver bisogno di tutto non come magari adesso che insomma il vino è diventato qualcosa di più una volta c'era il bisogno e bisogna sapere che arriva da quello poi qualche mio amico produttore del Soave grandi amici siamo confinanti diciamo come zone facendo una battuta mi ha detto una volta guarda voi il ripasso è una tecnica che usate perché avete sbagliato la vinificazione di settembre ottobre e io ho chiesto a mio padre giustamente mi hanno detto così e mi fa beh è vero una volta quando a volte non si riusciva a condurre una fermentazione perfetta quindi arrivare alla fermentazione conclusa finita quindi senza più zuccheri nel vino che si bloccava per chissà quale motivo perché non c'era la tecnica non c'era controllo di temperature il clima sicuramente qualche stagione strana c'era la possibilità di far ripartire questa fermentazione in marzo febbraio perché c'era appunto questi lieviti dell'amarone che lavoravano quindi una doppia fortuna e un'altra ragione per cui è nato il ripasso da quello siamo riusciti a creare un'entità a creare un vino che ha la sua personalità molto spiccata sicuramente riconoscibile e quello che proviamo a fare noi come azienda Speri è non creare un baby amarone come a tanti piace chiamarlo ma creare un buon valpolicella fatto bene sempre per far capire questa tecnica di ripasso che oramai è molto importante in valpolicella molto utilizzata lei diceva appunto che vengono prese le vinacce dell'amarone vengono lasciate fermentare con un valpolicella qual è la durata per quanto tempo si protrae questo procedimento immagino che non si tratterà solo di fermentazione si beh allora è un contatto queste vinacce con il vino che ricordiamo è un vino pronto finito è un vino che ha già terminato la fermentazione non è stato filtrato comunque è un vino finito questo contatto dura per circa 12-15 giorni in genere e appunto diamo in questo caso i rimontaggi sono più frequenti appunto perché il periodo è diciamo che è molto breve e la fermentazione è molto lenta quindi c'è proprio un passaggio fino chiaramente a non rovinare troppo le bucce perché lì si sa sarebbe un problema anche per creazione di brutti odori puzze diciamo così all'olfatto magari non potrebbe più essere così pulito come invece noi vogliamo avere va anche detto che a differenza del valpolicella base del quale abbiamo già parlato qui cominciano a fare la loro comparsa in cantina i legni le botti esattamente qui in questo caso il ripasso fa un anno di botte grande rovere di Slavonia la scelta della botte grande è dettata dalla nostra tradizionalità dal nostro voler dare al vino quello che è del vino e basta la botte grande serve appunto per diciamo levigare un po' quella che è l'acidità il tannino naturale del vino dare quell'invecchiamento ed ingentilirlo come giustamente deve essere si arriva ad un vino da 13 gradi e mezzo circa con un'acidità spiccata una bella freschezza ma questa tecnica del ripasso dà una bella morbidezza il vino la nostra scelta sì la nostra scelta è di avere un vino molto secco asciutto tutti i nostri vini sono molto asciutti e in questo caso c'è da dire che ripasso e amarone hanno talmente tante variabili nella produzione quindi dall'appassimento alla fermentazione che può essere più o meno lunga ai legni che ci si può ritrovare davanti a dei prodotti più o meno morbidi di zuccherini alti o bassi e questa secondo me è una cosa molto affascinante della nostra zona non dico che il metodo che usiamo noi sia il migliore assolutamente no anzi dico solo che è un metodo che rispecchia quella che è diciamo la tradizionalità sicuramente sì procediamo in questo viaggio nella conoscenza dei vini di Speri viticoltori parlando del terzo vino di questa sera è sempre un Valpolicella classico superiore ed è il primo dei vostri tre vini che prende anche il nome della porzione di territorio dal quale nasce Valpolicella classico superiore Vigna Sant'Urbano un Valpolicella superiore che è senz'altro noto e conosciuto a tutti ma per le sue qualità forse non mi troverà d'accordo Luca Speri è spesso definito un po' come un piccolo amarone esattamente esattamente questo è un po' il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda i Valpolicella è quello che nel quale noi crediamo di più è un prodotto che è stato fatto nella prima annata nell'82 è nato dalla ricerca di un vino che rendesse la Valpolicella grande come noi credevamo fosse al tempo era difficile avere un prodotto di questo livello quindi un vino che cominciava ad avere un corpo una struttura importante e una complessità maggiore rispetto a quello che era il vino da tutti i giorni come il classico Valpolicella base la nostra ricerca quindi da cosa è partita sicuramente dalla materia prima perché per fortuna il vino si fa ancora con l'uva quindi se l'uva è buona sicuramente è più facile lavorare in cantina quindi abbiamo preso questo nostro vigneto Monte Sant'Urbano che è proprietà dai primi del Novecento dell'azienda quindi è una piccola perla alla quale noi siamo legatissimi la nostra famiglia la nostra azienda la nostra storia si sviluppa attorno a questo gioiello diciamo quindi abbiamo scelto proprio questo piccolo appezzamento di circa 15 ettari nel comune di Fumane uno dei comuni della Valpolicella classica e appunto la tecnica qui riprende un po' quella che è l'amarone quindi questo appassimento in questo caso facciamo dai 20 ai 25 giorni massimo di appassimento quindi un lieve appassimento e questo è fondamentale deve essere lieve l'appassimento noi non cerchiamo concentrazioni esagerate qui non cerchiamo corpi e strutture folli qui cerchiamo complessità qui cerchiamo la grandezza di un vino che vuol dire non essere grosso ma vuol dire grande è una grandissima differenza quindi questo appassimento per 20-25 giorni ci dà l'opportunità di concentrare leggermente le uve quindi perdiamo un 2-3% di peso quindi poco niente poi una vinificazione in rosso normale diciamo tradizionale 20 giorni di vinificazione di fermentazione con rimontaggi giornalieri quindi comunque si arriva già a fare una fermentazione un po' più importante un'estrazione del colore di tannini un po' più un po' più forte e il risultato è un prodotto da 13 gradi e mezzo che ha una personalità incredibile sicuramente la potenza è tanta ma non è troppa a me piace dire che è un vino che si riconosce che è un grande vino ma si può bere appunto questa acidità tipica delle nostre uve questa eleganza questa pulizia rende un vino così che ci si rende conto che è importante che è imponente però te lo fa godere ed è quello il bello di un vino perché vini grandi belli enormi che poi devono star là e se ne beve tanto così sinceramente esatto come invecchiamento qui facciamo una cosa un po' più importante facciamo dai 20 ai 24 mesi dipende un po' dall'annata e dipende dall'età delle botti comunque qui usiamo tonnoda 500 litri rovere francese e la tostatura medio-bassa quindi anche qui non usiamo la barrique per quanto io credo che la barrique sia un ottimo strumento però appunto per il discorso di prima quindi per cercare di tenere il più possibile l'anima e la riconoscibilità delle nostre uve e dei nostri vini vogliamo usare delle botti molto gentili che non infastidiscono che non entrino con il gusto dentro la nostra ciliegia dentro la nostra violetta la nostra mora e queste cose quindi un prodotto che sicuramente adesso abbiamo in commercio il 2006 è un vino che io dico appena nato perché nonostante sia un Valpolicella superiore è un vino che raggiunge io credo il massimo in altri 6-7 anni e parlavamo appunto del rispetto delle uve o quantomeno mantenere integre le qualità organolettiche allora ricordiamo le uve che concorrono a questo vigneto Monte Sant'Urbano sì beh sicuramente la Corvina come sempre la fa da padrone la Rondinella in buona parte Molinara direi che dipende un po' dalle annate perché annate magari più cariche e se ne usa un po' di più e annate magari un po' più scariche si cerca di dare un po' più corpo un po' più struttura al vino magari usando più Corvinone abbiamo detto prima quindi io direi che anche rispetto agli uvaggi alle percentuali di uvaggio non siamo davanti a uno schema per fortuna e qui sta l'esperienza sta all'esperienza di un vignaiolo di un viticoltore capire l'anno in cui magari dare un 2% o 5% o 10% di un'altra piuttosto che della Corvina o della Molinara e questo comunque tenendo di base queste tre uve Molinara in genere nel Sant'Urbano siamo in una piccola percentuale che va da un 2% o un 5% e anche Corvinone certo parlavamo appunto del vigneto Monte Sant'Urbano che se non erro è il vigneto più a nord che voi avete fra i vostri vigneti e vigneto Monte Sant'Urbano per forza di cose ci introduce verso l'Amarone di Speri perché anche l'Amarone di Speri riporta in etichetta la menzione di questo bellissimo vigneto ma prima di parlare del vostro Amarone parliamo di come nasce l'Amarone sì l'Amarone nasce sicuramente l'abbiamo accennato prima dal Recioto il Recioto è il vino dolce è il vino dolce tipico tradizionale della nostra zona è un vino che si dice ci sono anche dei testi latini romani antichi appunto fosse anche il vino diciamo da da celebrazioni ancora degli antichi romani quindi si parla di migliaia di anni fa un vino appunto fatto con l'appassimento delle uve l'origine dell'Amarone appunto arriva da qui arriva dal Recioto un Recioto che grazie appunto all'appassimento delle uve aveva delle uve appunto avevano un grado zuccherino molto elevato la pressatura la pigiatura di queste uve avveniva e avviene tuttora nei mesi di gennaio febbraio quindi con temperature molto basse l'uva arriva in cantina anche a 2-3 gradi centigradi e quindi la fermentazione avviene in una maniera molto lunga soprattutto la fermentazione spontanea quando l'uva viene pigiata resta in questi contenitori di acciaio per circa una settimana prima di cominciare la fermentazione pian pianino si scalda arriva attorno ai 15 gradi poi naturalmente parte e però questi lieviti se si lasciano così senza toccarli senza controllare la temperatura riescono a lavorare ma fino a un certo punto non hanno la forza a quelle condizioni per esatto non hanno la forza a quelle condizioni a quelle temperature di lavorare fino a bruciare tutti questi zuccheri e quindi naturalmente il riciotto si è sempre fermato diciamo così la fermentazione si è fermata naturalmente quindi avendo dei residui zuccherini importanti quindi un vino dolce corposo elegante e tante cose l'amarone nasce diciamo negli anni 50 quindi è un vino particolarmente recente se si pensa al nome che ha magari tanti ai quali mi trovo di fronte si dicono ah l'amarone come dire anni e anni fa e invece diciamo che è piuttosto recente leggenda vuole che sia stato un contadino che ha lasciato questa botta di recioto che stava fermentando è partito per la guerra diciamo quindi anni tra il 40 e il 45 complice un'annata un inverno particolarmente caldo questo recioto ha terminato la fermentazione questo contadino è tornato a casa ha assaggiato questo recioto che non era più dolce ma anzi era l'opposto quindi era amaro però esatto era un amaro tanto amaro tanto grosso tanto forte era un amaron come si dice in dialetto e quindi da questa cosa parte che può suonare come una leggenda lo può essere a me piace pensarla così ma di sicuro c'è da dire che prima degli anni 50 l'amarone non c'era degli anni diciamo fine 40 50 l'amarone non esisteva da lì in poi si può trovare qualche bottiglia qualche annata e quindi che sia stato questo contadino che è partito per la guerra oppure qualche contadino illuminato che ha avuto questa questa grande intuizione comunque c'è da dire che parte da lì tant'è che le bottiglie che vanno fino agli anni 70 hanno come denominazione principale il recioto della Valpolicella e poi ci sono le due diverse diverse particolari quello classico il recioto dolce quello normale diciamo così è il recioto amarone quello secco quello come diceva mio papà che lo dice ancora il recioto scapà quindi il recioto che gli è scappata la fermentazione è un errore è stato un bel errore però sicuramente sì ce ne fossero di errori così no comunque c'è da dire che questo il recioto appunto è l'origine della nostra fortuna del nostro amarone e per fare capire un po' che è una cosa più recente di quanto si pensi ho miei zii e mio nonno che è l'uva che noi adesso raccogliamo abbiamo appena finito di raccogliere per amarone loro la chiamano ancora uva da recioto per dire io dico papà abbiamo finito di raccogliere l'uva per l'amarone loro dicono uva da recioto quindi è importante anche avere questa coscienza per andare a produrlo poi il recioto che è un vino difficile particolare che trova un mercato diciamo un po' strano perché chi lo beve se ne innamora però è un prodotto piuttosto difficile diciamo così prima però di parlare del recioto che è il papà della Valpolicella e dell'amarone ma come nasce l'amarone di Speri allora il nostro amarone nasce appunto dal vigneto Sant'Urbano come abbiamo detto prima e qui appunto il vigneto è fondamentale fondamentale rese per ettaro piuttosto basse ma fondamentale da dire è che queste rese sono naturalmente basse non andiamo a fare nessun tipo di diradamento e questo è fondamentale perché dovete sapere che queste nostre uve molto particolari molto strane Corvina, Rondina e Molinara sono uve molto generose hanno una produzione naturale che va sopra ai 120-130 quintali per ettaro quindi se siamo abituati a pensare a Cabernet, Merlot magari Sangiovese soprattutto Nebbioli così pensando a Piemonte o Toscana che arrivano a 50-60 quintali per ettaro qui siamo in un altro mondo e non vuol dire necessariamente minor qualità anzi vuol dire una diversità di uva che per fortuna c'è quindi noi nel Sant'Urbano riusciamo ad avere una resa attorno ai 90 quintali per ettaro naturale quindi con un equilibrio che in altri punti non si riesce ad avere perché nella zona del pianeggiante dove ricaviamo le uve per fare il Valpolicella classico la base lì dobbiamo andare a diradare per arrivare ad avere una resa attorno ai 110 quintali ettaro il disciplinare Valpolicella dice 120 come limite massimo noi in genere stiamo tra i 100 e i 110 non vogliamo forzare nella nostra storia abbiamo provato a fare anche i dilatamenti pesanti per vedere cosa viene fuori il risultato a 80 70 quintali ettaro però abbiamo avuto una bella sorpresa si peccava di eleganza non c'era quell'eleganza che a noi piace tanto quella bevibilità quella finezza che i nostri vini devono avere quindi insomma prima di tutto la Marone nasce da questo vigneto da questo vigneto che ha un'esposizione splendida quindi tutto fatto su terrazze terrazzamenti che noi chiamiamo marogne terrazzamenti a secco e arriva parte da 280 metri sul livello del mare fino a 350 metri e appunto qui prima di tutto c'è una selezione delle uve si seleziona solo l'uva migliore che attenzione non è quella più matura è quella più sana è quella dove il grappolo è più spargolo è quella dove sicuramente non ci sarà l'attacco di muffe perché il grappolo è molto molto rado i chicchi sono molto radi molto distanti l'uno dall'altro quindi l'umidità è difficile che resti dentro quindi una cura ricordiamo che questi grappoli poi devono subire l'appassimento e la muffa diventa un nemico piuttosto serio esatto la muffa se ti prende un singolo grappolo in una settimana è capace di rovinarti una buona partita di uva quindi è fondamentale quindi una cura diciamo maniacale in questa in questa selezione c'è a dire che selezioniamo in un vigneto nel vigneto santurbano attorno al 40% di uva solo la migliore quindi c'è è anche un lavoro piuttosto impegnativo quindi un primo passaggio per l'uva di Amarone solo quella bella e chiaramente chi fa questo tipo di lavoro deve avere una una bella esperienza infatti la media di età della serie A come la chiamiamo noi abbiamo le squadre la serie A siamo attorno ai 65-66 anni tutta gente che insomma le mani ce le ha coi calli l'uva le vigne sanno cosa sono ben adattate all'Amarone insomma sicuramente sì appunto dopo questa selezione fondamentale si passa all'appassimento appunto l'appassimento naturale noi non usiamo nessun tipo di deumidificatore controllo temperatura niente abbiamo questo vizio di voler lavorare per forza quindi aprire e chiudere le finestre dipende dalla giornata c'è a dire che appunto l'appassimento non è un appassimento all'aperto ma al coperto in edifici che in genere nel nostro caso stanno o sulla cima della collina per esempio Sant'Urbano abbiamo un centro di appassimento oppure nella nostra cantina negli ultimi piani quindi al terzo piano della casa quindi il più possibile distante da quello che può essere la nebbia l'umidità dove passa più aria fondamentalmente e quindi giornate belle secche asciutte si aprono le finestre e si lascia seccare l'uva quelle brutte con la pioggia con l'umidità con la nebbia si chiude punto e questo per 120 giorni e al termine di 120 giorni lei prima parlava 90 quintali per ettaro quindi di uva matura ricca d'acqua non solo di tutto il resto ma alla fine dell'appassimento quanta uva rimane resta poco resta poco considerando che 90 sono i quintali per ettaro del vigneto noi selezioniamo il 40% quindi ce n'è ancora meno siamo attorno ai 35 quintali di quell'ettaro e consideriamo che perdiamo circa il 35-40% di peso è tutta acqua che va via quindi una grande concentrazione nel vino dai tannini al corpo la struttura il colore c'è tutto molto più concentrato chiaramente c'è da dire per fare un esempio molto pratico per fare una bottiglia di Valpolicella a base serve poco più di un chilo d'uva per farne una di ammarone ne servono due 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 quattro si capisce che insomma la differenza c'è si sente anche si vede insomma il vostro ammarone se non erro è fatto con corvina e rondinella qui la molinara non trova posto qui la molinara trova un minimo posto proprio e dipende un po' dalle annate quindi se ne usiamo un 2-3% è proprio perché ci teniamo noi perché ce la vogliamo mettere la nostra uva però diciamo che qui è stata non dico sostituita ma in gran parte rimpiazzata dal corvinone corvinone che ci dà un po' più di corpo in più un po' più di struttura in più comunque nelle annate quelle più calde come per esempio è stato il 2003 come è stato quest'anno che è stata un'annata molto calda 2009 come è stato il 2000 la molinara ce l'abbiamo messa fino a un 4-5% proprio per dare un po' di freschezza per dare questa mineralità che in annate magari così calde si perde un po' quindi serve sempre sicuramente altrimenti non sarebbe stata lì esatto una volta finita la fermentazione la scelta invece della maturazione per questo amarone speri che cosa utilizza allora noi utilizziamo anche qui sia botte grande che tonno l'invecchiamento dell'amarone dipende un po' dalle annate come sempre ma va dai 3 anni ai 3 anni e mezzo in genere e quindi usiamo per la prima parte di invecchiamento tonno da 500 litri per circa un anno e mezzo e attenzione non solo nuovi anzi noi li usiamo fino al terzo o addirittura quarto passaggio non siamo non abbiamo questa fobia di cambiare per forza ogni volta anzi io personalmente credo che il terzo passaggio sia il migliore appunto perché questa vaniglia questo questo classico odore di legno è proprio smorzato è proprio alla fine quindi fa proprio il lavoro del legno che è quello di microossigenare il vino che è la cosa più bella quello che lo ingentilisce quello che lo fa maturare noi non vogliamo aggiungere niente di più a quello che c'è vogliamo solo farlo maturare come un figlio deve crescere e appunto dopo quest'anno e mezzo passa alla botte grande e torniamo in rovere di Slavonia botti che vanno dai 25 ai 50 ettolitri massimo e qui ci sta per un altro anno e mezzo o due dopodiché l'amarone dopo l'imbottigliamento ha bisogno di almeno 6 mesi di bottiglia perché è un vino talmente carico talmente strutturato che un imbottigliamento può rompere dei legami chimici all'interno del prodotto che ci mettono un po' di più rispetto agli altri vini poi si sa che l'amarone quando va in commercio è sempre un bambino e quindi bisognerebbe aspettare molti molti anni comunque c'è da dire che quando entra in commercio sia un prodotto che è già a buon livello di maturazione sì abbandoniamo si fa per dire l'amarone e dulcis in fundo arriviamo al recioto come ci è stato detto l'origine dell'amarone e anche in questo caso il recioto di Speri porta il nome del vigneto dal quale è prodotto recioto della Valpolicella la roggia che è il nome di un vigneto e se non erro qui andiamo nella parte opposta se Sant'Urbano sta a nord se non erro la roggia sta proprio in fondo esatto sono i due estremi dei nostri vigneti c'è da dire che comunque i vigneti che abbiamo sono dislocati in diverse parti della Valpolicella classica sulla cartina potrebbero sembrare distanti se uno vede il terreno e guarda una foto sembrano due mondi diversi ma sono cinque chilometri di distanza però sono sempre due mondi diversi esatto ed è la fortuna della nostra zona che si passa in pochi chilometri in pochi centinaia di metri a differenze grandissime quindi quello il lavoro che hanno fatto prima di me e della mia generazione che hanno fatto i miei zii e mio nonno è stato appunto identificare le singole particelle dei vigneti cosa le caratteristiche che hanno cosa possono dare a un vino quindi nell'Amarone questo vino esuberante a volte anche troppo che a volte sembra che scalci cercare di dare la più eleganza possibile il più grande bilanciamento tra tutti gli elementi possibili quindi il santurbano alto poca produzione vigne vecchie grandissima eleganza mentre per il Reciotto hanno trovato un terreno sempre in una zona collinare anche se è un po' più a sud sempre zona collinare qui si va sui 200 metri sul livello del mare un terreno un po' più ricco un terreno che dà più sostanza che dà più alimento alla vite e quindi un'uva che ha sicuramente più grado zuccherino di natura un po' più struttura un po' più corpo e quindi un vino che è un'uva che è particolarmente adatta per creare un vino dolce poi in questo vino quello che vogliamo creare noi è proprio andare contro lo stereotipo del vino dolce quindi cercare un vino che sì sia dolce ma non stucchevole a volte uno dei rischi che si corre di più con i vini dolci è quello appunto che il secondo bicchiere è un po' difficile è un po' difficile da affrontare ma noi abbiamo la fortuna delle nostre tre uve le nostre mitiche tre uve che hanno questa acidità che hanno questa freschezza che hanno questo tannino che tengono in vita l'amarone per anni questo tannino questa acidità riescono a sgrassare molto bene la bocca pulirla quindi rimarrà molto lungo il gusto ma questo dolce viene portato via e questo è secondo me è il segreto del successo di un vino come il Reciotto che è un vino dolce sicuramente importante anche grosso in qualche caso nel senso con delle belle spalle si può dire però che alla fine ha questo finale che è di un'eleganza che ti fa bere il secondo bicchiere qual è il parlavamo di Reciotto Scappà io non sono veneto quindi non mi viene bene come viene bene lei dire Reciotto Scappà che cosa si fa per non far scappare il Reciotto allora la differenza appunto sta in questo che lei ha appena detto la fermentazione noi come azienda abbiamo voluto anche dividere i vigneti come spiegavo anche prima quindi nel vigneto della Roggia per il Reciotto si ha un po' più di sostanza di struttura e quindi di zucchero anche poi nell'uva lo zucchero naturale nella maturazione e la differenza sta appunto nel termine della fermentazione e qui bisogna essere molto attenti un giorno può cambiare e appunto sta nel decidere il momento in cui fermare questa fermentazione adesso la tecnologia ci dà ci dà ci dà aiuto diciamo così ci permette di controllare la temperatura di fermentazione nelle vasche dell'amarone e quindi di avere diciamo attorno ai 20 gradi circa 19 gradi costanti per la fermentazione in questo modo se si lascia andare si arriva a bruciare tutti gli zuccheri quindi a trasformare tutti gli zuccheri in alcol quello che facciamo con il Reciotto è semplicemente e naturalmente un travaso di questo vino di questo mosto che sta diventando vino un travaso in vasche di acciaio che sono praticamente in una zona diciamo esterna alla cantina quindi a temperatura ambiente ricordiamo che siamo a febbraio circa quindi fuori c'è ancora freddo e naturalmente questa fermentazione viene bloccata quindi senza fare una filtrazione che sarebbe un po' spogliare grazie a questa filtrazione potremmo levare appunto questi lieviti e impedire che lavorino però noi vogliamo ottenere tutto quello che c'è dentro a questo vino quindi solo un travaso lo portiamo al freddo la fermentazione si ferma naturalmente il vino si stabilizza dopodiché si mette all'invecchiamento e questo è l'unico vino nel quale usiamo per una piccola parte di invecchiamento la barique usiamo la barique per pochi mesi si parla di nove mesi massimo è tendenzialmente usata se è nuova chiaramente la usiamo molto 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 meno si parla anche di tre quattro mesi e poi il vino va in botte grande ancora le botti di Rovredi Slavonia per un annetto circa il Reciotto è un vino che va sul mercato dopo tre anni circa quindi due anni di invecchiamento si parla di legno e anche qui è necessario fare dell'affinamento in bottiglia ricordiamo appunto che il Reciotto è appunto dolce ed è un po' una stranezza se vogliamo nel panorama dei vini dolci trovare un rosso dolce questa dolcezza che si scontra con dei tannini potenti come quelli della Corvina qual è il segreto per mantenere l'equilibrio di tutto questo? il segreto l'ha accennato lei un secondo fa il segreto è un segreto molto semplice se si vuole sono le nostre uve sono le nostre uve che hanno questa acidità caratteristica che hanno questo tannino naturale quindi si troverà un prodotto finale che sicuramente avrà una grandissima dolcezza un impatto al palato molto dolce molto pesante quasi oleoso in qualche caso però il finale è strepitoso perché è un finale che rimane molto lungo in bocca nel palato va fino in fondo e ci resta mentre i tannini questi tannini della Corvina e questa acidità che c'è nei nostri vini puliscono puliscono bene il palato quindi gli zuccheri vanno via non c'è pesantezza ed è un vino che chiama diciamo così il secondo bicchiere quello che dice mio papà che mi ha sempre insegnato che è il segreto di Pulcinella voglio dire il segreto da niente e mi ha sempre detto guarda i vini buoni sono quelli che sul tavolo finiscono se quella bottiglia è vuota vuol dire che sicuramente era buona quindi ovviamente è riportato ad adesso è riportato a dei vini che sicuramente sono importanti impegnativi di questo livello però il significato resta quello noi vogliamo fare dal Valporicella classico che è il base fino al Reciotto che è il vino dolce quello del dessert quello che si beve nelle ricorrenze se ne beve tanto così un goccetto vogliamo fare vini che siano da bere vini che si possano affrontare vini che trovano nel cibo la loro massima espressione noi siamo convinti che cibo e vino sia un uno più uno che fa tre questo è un concetto che è un artificio aritmetico che solo il vino può permettere esatto io sono convinto che il vino e il cibo soprattutto in un territorio come l'Italia come la Francia diciamo nel vecchio continente sono vini fatti per questo motivo i vini da degustazione i vini da singolo bicchiere secondo me se li lasciamo fare giustamente ai paesi moderni che lo fanno bene anche sono dei vini strepitosi noi abbiamo secondo me questa dedizione questo DNA e cerchiamo di farlo così bene concludendo questa nostra interessante discussione sulla Valpolicella e sulla Marone magari chi ci sta seguendo e chi ci sta ascoltando dovendo passare in Valpolicella è previsto farvi visita? assolutamente sì noi siamo una cantina che lavora come vi ho detto prima in famiglia quindi se qualcuno bussa la nostra porta troverà me mia sorella mio cugino mio papà qualcuno non abbiamo le visite guidate organizzate con il pulmino che vi portiamo in giro ma anzi forse ancora più simpatico e più reale vi porto in cantina dove c'è mio cugino che sta svinando o magari stiamo facendo un travaso magari imbottigliando quindi è proprio lo spirito nostro che è questo qui e siamo sicuramente contenti che la gente venga a trovarci e chiaramente se fate un colpo prima di telefono è meglio così magari non siamo con il vino fino qua ricordiamo che Speri si trova a Pedemonte se non erro esattamente nella Valpolicella bene io direi che possiamo concludere questa nostra intervista io ringrazio Luca Speri innanzitutto per essere qui con noi questa sera Luca Speri e la famiglia Speri che ci hanno dato l'opportunità di conoscere da vicino i loro prodotti a me non resta che augurare buona serata anche a voi e l'appuntamento è per il prossimo mese a novembre con il nuovo appuntamento riservato ai lettori di Wine Taste grazie Luca Speri buon evento e buona serata grazie mille grazie a tutti